C'è un ultimo capitolo di Freud molto importante, lo abbiamo spiegato dal punto di vista tecnico come descrittore dell'evoluzione di ogni singolo uomo che ripercorre sostanzialmente la storia dell'umanità, ma Freud ha anche una componente profetica. In un libro scritto dieci anni prima della sua morte nel 1929 che porta il titolo il disagio della civiltà, dove ipotizza che la nostra civiltà sia troppo severa in termini di regole, convenzioni, di vieti rispetto all'espressione del mondo pulsionale e esprime questo concetto con quella bella espressione l'uomo barattato gran parte della sua felicità per un po' di sicurezza. Il mito della sicurezza è un mito particolarmente sentito oggi, ma non dobbiamo dimenticare che la sicurezza richiede un impianto di regole che quando diventa eccessivo comprime la vita e anche la felicità. Qual è il luogo imminente della sicurezza? Oggi possiamo dire senz'altro che il luogo più potente delle regole, delle convenzioni e delle pratiche sia costituito dal mondo della tecnica, che Freud naturalmente non aveva preso in considerazione, ma che noi oggi non possiamo evitare di constatare e inserire in quel filone della sicurezza da lui segnalato. La tecnica è un impianto di regole molto rigoroso, ci propone come modello la macchina rispetto a cui gli uomini sono un pochino inferiori in termini di efficienza, precisione, regolarità, perché gli uomini hanno umori, si ammalano, le donne restano gravide, non funzioniamo bene come le macchine, però il modello che ci viene proposto è sostanzialmente questo, per cui potremmo pensare di aggiungere all'inconscio pulsionale di Freud e all'inconscio sociale, da lui segnalato anche una sorta di inconscio tecnologico, per cui io sono non tanto me stesso, quanto piuttosto la funzione che svolgo, ben rappresentata dai nostri biglietti da visita, dove appunto il nostro nome dice e non dice, ma la nostra funzione dice con chiarezza, per cui noi siamo visualizzati sostanzialmente a partire dai nostri ruoli, dalle nostre funzioni e se da un lato, come bene ci ha indicato Freud, noi siamo funzionali della specie, oggi siamo anche funzionali di apparati. Questo inconscio tecnologico è interessante perché è il luogo della messa tra parentesi dell'individuo, la messa tra parentesi del soggetto e qui potremmo inserire il discorso su l'altro grande esponente della psicoanalisi del Novecento che è Jung, il quale indica come scenario psicoanalitico quello di diventare se stessi, al di là delle maschere, al di là dei ruoli, al di là delle funzioni che la società esige da noi per la sua economia e non per la nostra economia.